Siamo alla Blogfest con Marco Fattuano di Telecom Italia e due domande. Cosa pensi l'open source e pensi che l'open source possa aiutare in qualche modo Telecom? Allora, cosa penso di open source? Noi usiamo open source, per cui credo che questa sia la dimostrazione di rispondere a due domande in una. Open source è la necessità di uscire da una vecchia interpretazione open source come qualcosa che funziona più o meno, ma intanto è gratis. è esattamente il contrario. Noi quello che abbiamo è la necessità di utilizzare progetti la cui evoluzione segue un percorso diverso di quello che è l'evoluzione di piattaforme chiuse, di piattaforme proprietarie. Noi peraltro quello che stiamo pensando e sto stimolando molto è la possibilità di contribuire parte del nostro patrimonio di brevetti. Noi abbiamo circa 3.000 brevetti e contribuire parte di questo patrimonio di brevetti affinché possa crescere come fonte di nuovi open source. Quindi sono molto favorevoli, noi li utilizziamo, progressivamente stanno sostituendo tutta una serie di altre piattaforme che non utilizzavano invece sorgenti open source. Grazie mille. Grazie mille.